Siete qui per presentare la vostra startup che in due parole si potrebbe spiegare come? Noi abbiamo creato uno strumento sostanzialmente di comunicazione che permette a chi ha bisogno di arrivare alla persona giusta nel minor tempo possibile senza essere né un esperto di nautica né un esperto tecnico della propria barca. Il punto di vista pratico per chi userà questa applicazione e quali potrebbero essere i vantaggi? I vantaggi sono quelli, in un primo momento quello immediato è quello di non dover conoscere nessuno e di non dover essere un esperto. Io mi compro una barca perché me la voglio comprare, il giorno che ho bisogno di qualcosa perché non si accende una lucina o devo fare un tagliando non devo ricorrere necessariamente come si è fatto fino a ieri all'amico, al cugino, all'amico dell'amico o comunque vada a soggetti che talvolta vogliono anche essere pagati per questo. Quindi l'immediato vantaggio è sicuramente quello. I vantaggi successivi sono quelli, lato industria, di mettersi in contatto diretto con chi ha bisogno saltando tutti questi middleman che oggi esistono, che non ho nulla contro di loro però in un certo senso rendono la filiera più costosa, più faticosa, meno diretta e sicuramente meno veloce perché oggi quello che serve è la velocità.